FUNKY G Mi consiglia di chiudere tutte le finestre, accendere il PC, andare su YouTube ed aspettare un nuovo video. What the fuck, people! Sta a posto? Finito? Dove cazzo sono le mie ciambelle? No, tu adesso me lo devi dire dove cazzo sono! Dove cazzo sono le mie cazzo sono le mie cazzo sono le mie cazzo. Dove cazzo sono le mie cazzo sono le mie cazzo.